La storia delle multe combinate dai vigili urbani e giovani che siedono sui finestroni di San Bernardino continua a generare polemiche. Dieci multe sono arrivate alla fraternatà o allus del movimento celestiniano e punto di riferimento per l'accoglienza ai poveri e bisognosi. Mille euro da pagare. È legale il rappresentante Perino Giorgi che dovrebbe pagare perché non avrebbe vigilato sul comportamento degli ospiti. Si tratta di minori stranieri non accompagnati ma la legge non ammette ignoranza per Giorgi che ha spiegato che risponde il tutore nominato dal tribunale se non c'è il sindaco della città ospitante. Così come alla fraternatau altre multe saranno ricapetate ad altre strutture di accoglienza. Non è questione di pagare non pagare, è questione di principio nel senso che non ci sentiamo in obbligo di pagare per una cosa che hanno commesso giovani ragazzi che stavano liberamente facendo nulla. Stanno solo collaborando e relazionando con i ragazzi dell'Aquila. Noi abbiamo in gestione quindi in custodia questi ragazzi presso la nostra comunità. Dentro la nostra comunità avvengono veniti tutto nel senso che li portiamo al lavoro. Tante persone, tanti ragazzi vanno al lavoro, tanti vanno a scuola, quasi tutti vanno a scuola e vengono impegnati giornalmente a fare delle attività. Dentro la comunità è così e le regole vanno rispettate nel senso che anche noi siamo molto rigidi e pretendiamo da loro che si comportino bene anche fuori perché quando sappiamo che non si comportano bene anche fuori noi siamo i primi a chiamare le forze dell'ordine e a collaborare con loro perché vengano multati e sanzionati. Multe che però saranno rispedite al mittente come spiegava Giorgi ma che inducono anche ad una riflessione, una ripressione non giusta per lui a fronte di ragazzi aquilani che non sono stati sanzionati e quindi viene meno un discorso educativo. Per voi c'è un po' un accanimento rispetto ai migliori stranieri non accompagnati, insomma alle comunità che le ospitano rispetto agli altri ragazzi? Secondo me sì, c'è questa alone di sono venuti i ragazzi baby gang formati ragazzi stranieri che fanno questo e fanno quell'altro. Sì, in effetti il problema esiste, io non voglio negare che non esiste il problema, però le istituzioni come è stato fatto l'altro giorno dalla Prefettura in un comitato che si è riunito per l'ordine pubblico specificatamente per i minori, sono state dette delle cose per cui le istituzioni, tutte le istituzioni devono collaborare per creare delle situazioni di interesse, di relazioni che possono evitare queste violenze, queste cose.